Prosegue l'iniziativa di economia circolare Altro Giro, promossa dalla Ollus Gulliver dall'amministrazione comunale e grazie alla quale da qualche settimana nuovi giochi vengono collocati nei parchi e nelle aree verdi della città. Ieri è stata la volta del Parco di Candelara, nel quale è stata posizionata una nuova altalena, terza donazione dall'inizio del progetto. La Gulliver è una realtà virtuosa del nostro territorio, grazie ai tanti cittadini pesaresi che hanno deciso di collaborare, di donare i propri elettrodomestici usati ma in buono stato, piuttosto che un vestito e grazie ai tanti volontari che operano nei negozi perché ricordiamo i negozi sono in Piazza Redi, in Via Rossi e in Via Toscana. È una realtà che sta collaborando non solo col progetto di Altro Giro ma sono tante le iniziative che stanno mettendo in campo. Un altro grazie alla Gulliver per il terzo gioco che ha voluto donare alla città. La prossima settimana di nuovo ringrazieremo per la quarta volta la Gulliver perché ci donerà uno scivolo per il quartiere di Villa Fastigi, un progetto sano che fa bene, fa bene ai bambini e fa bene anche ai grandi. Grazie Onlus Gulliver.